Finale a Genova, Chievo batte a Genova 2 a 0 e a te Corsini. E prima di sentire il commento di Atalanta Udinese, permettetemi di salutare effettuosamente Tarcisio Mazzeo e di ringraziarlo per la sua professionalità, la grande disponibilità dimostrata in tutti questi anni. Mazzeo oggi ha presumibilmente effettuato la sua ultima radiocronaca in tutto il calcio e questo perché Tarcisio è stato destinato ad altri prestigiosi incarichi. Mi sembrava giusto ricordarlo prima di ascoltare il commento di Atalanta Udinese. A te Tarcisio. Grazie ascoltatori capiranno la mia emozione. È stata una partita non bellissima. La cura Reia non ha guarito l'attacco dall'Atalanta. Un solo tiro in porta importante nella ripresa l'ha fatto Gomez ed è stato parato da Carlesis. Un solo tiro da parte dell'Atalanta nel primo tempo al dodicesimo ed è stato scagliato da Wittmer ed è finito sul palo. La partita è finita a 0 a 0. Io ringrazio il mondo di tutto il calcio minuto per minuto. Studio.